La mattina seguente, svegliandosi, si accorse di avere dormito. Questo fatto insolito la stupì. Era ormai molto tempo che aveva perso l'abitudine al sonno. Un allegro raggio del sole che sorgeva entrava da lucernario e le batteva sul viso. Contemporaneamente al sole vide a quel lucernario qualcosa che la spaventò, la disgraziata faccia di Quasimodo. Involontariamente chiuse gli occhi, ma in vano. Anche attraverso le rosse palpebre le sembrava di continuare a vedere quella maschera di gnomo guercio e sdentato. Allora, mentre restava con gli occhi chiusi, udì una voce rude che diceva con grande dolcezza. Non abbiate paura. Sono vostro amico. Ero venuto per vedervi dormire. Non può farvi male, vero? Che io venga per vedervi dormire. Che cosa vi fa se io sono qui quando tenete gli occhi chiusi? Ora me ne andrò. Guardate, mi sono messo dietro il muro. Potete riaprire gli occhi. C'era qualcosa di ancora più penoso che non queste parole. Era l'accento con cui venivano pronunciate. L'egiziana aprì gli occhi commossa. Infatti Elghi non era più al lucernario. Ella si avvicinò a quel lucernario e vide il povero gobbo rannicchiato in un angolo del muro, in atteggiamento doloroso e rassegnato. Fece uno sforzo per superare la ripugnanza che egli le ispirava. Venite, gli disse dolcemente. Al movimento delle labbra dell'egiziana, Quasimodo credette che lo scacciasse. Allora si alzò e si ritirò zoppicando lentamente, a testa bassa, senza nemmeno osare di alzare sulla ragazza lo sguardo pieno di disperazione. Venite dunque! e la gridò. Ma quello continuava ad allontanarsi. Allora lei si lanciò fuori dalla celletta, corse verso di lui e lo prese per il braccio. Sentendosi toccato da lei, Quasimodo cominciò a tremare in tutte le membra. Alzò l'occhio supplichevole, vedendola tentare di avvicinarlo a sé. La faccia gli si illuminò tutta di gioia e di tenerezza. Ella voleva farlo entrare nella celletta, ma lui si ostinò a restare sulla soglia. No, no, il gufo non entra nel nido della lodola. Allora lei si accovacciò graziosamente sul suo giaciglio, con la capra addormentata ai piedi. Tutti e due restarono qualche momento immobili, considerando in silenzio lui tanta grazia, lei tanta bruttezza. Tuttavia su quelle deformità si spandeva tanta tristezza e dolcezza che cominciava ad abituarvisi. Elghi ruppe per primo quel silenzio. Mi dicevate dunque di ritornare? Ella fece un segno affermativo con la testa dicendo. Sì, Elghi comprese quel segno della testa. Ahimè, disse come esitando a concludere. Il fatto è che io sono sordo. Povero uomo, esclamò la zingara con un'espressione di benevola pietà. Elghi sorrise dolorosamente. Trovate che non mi mancava che questo, vero? Sì, sono sordo. È orribile. Non è vero. Siete così bella voi. Nell'accento del disgraziato c'era un sentimento così profondo della sua miseria che ella non ebbe la forza di dire una parola. Del resto Elghi non l'avrebbe udita. Proseguì. Non ho mai visto la mia bruttezza come adesso. Quando mi paragono a voi, ho proprio pietà di me, povero sventurato mostro che sono. Dite, non vi faccio l'effetto di una bestia. Voi, voi siete un raggio di sole, una goccia di rugiada, un canto di uccello. Io, io sono una cosa orribile. Né uomo né animale. Un non so che di più duro, più calpestato e più deforme di un ciottolo. Allora si mise a ridere e questo riso era la cosa più straziante del mondo. Elghi continuò. Sì, sono sordo, ma voi mi parlerete per gesti, per segni. Ho un padrone che parla con me in questo modo. E poi capirò ben presto ciò che vorrete dal movimento delle vostre labbra, dal vostro sguardo. Ebbene, disse lei sorridendo, ditemi perché mi avete salvata. Elghi la guardò attentamente mentre parlava. Ho capito, rispose. Mi chiedete perché vi ho salvata. Avete dimenticato un miserabile che una notte cercò di rapirvi e che tuttavia il giorno dopo avete soccorso sull'infame Berlina. Una goccia d'acqua e un po' di pietà è più di quanto pagherei con la vita. Voi vi siete dimenticata di quel miserabile. Lui se ne è ricordato. Ella lo ascoltava profondamente intenerita. Nell'occhio del campanaro era spuntata una lacrima che non cadde. Sembrò che egli si facesse un punto d'onore nel trattenerla. Allora si alzò. Quella strana creatura, per infelice che la zingara fosse, risvegliava ancora in lei un po' di compassione. Ella gli fece segno di restare. No, no, disse lui, non devo restare troppo a lungo. Non mi sento a mio agio quando voi mi guardate. È solo per pietà che voi non distogliete gli occhi da me. Vado da qualche parte, da dove vi vedrò, senza che voi mi vediate. Sarà meglio. Tirò fuori dalla tasca un fischietto di metallo. Tenete, disse. Quando avrete bisogno di me, quando vorrete che io venga, quando non proverete troppo orrore nel vedermi. Fischierete con questo. È un rumore che sento. Depose il fischietto per terra e fuggì.